apriamo i pacchetti, apriamo il primo, dai apri giù lì ciao a tutti i challengers vediamo chi è buono, dai chi è argentino messi messi vabbè andiamo veloci apri un altro, potrebbe essere totti e contotti vediamo va bene, hai contotti intanto ce l'ho già tutti, vediamo sanchez, buono andiamo avanti, adesso ci sono i pacchetti più buoni novantaquattro, novantacinque plus totti vediamo chi è dai, totti crato buono, 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 buono doppione, andiamo avanti modric, luca modric doppio andiamo avanti open more, un altro icon natalizia dammi per le novantasai dammi per le novantasai, dammi per le novantasai francese dai ci abbiamo già e chi è? Zidane dai, apro un altro pacchetto icon forse potrebbe essere per le novantotto dai dai, dammi per le novantotto per le novantotto per le novantotto ultimo novantacinque dai, 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 dai apriamo insieme totti speriamo uno chi è? dai francese Benzema Kevin The Dream il fantastico e unico Benzema 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 Benzema